www.alberto.com Credo che l'abbiano plagiata e coinvolta in una storia di droga Me la trovi e me la riporti a casa Per quanto riguarda il trovargliela Vabbè, posso fare il possibile ma portargiela a casa è un po' complesso Sergio, il signore ha ragione No Le basta questo? Dobbiamo fare il sordo E se non pari, io ti pignoro anche le mutande La ragazza Hai la sensazione di averla già vista Io l'ho usata Grazie 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 Grazie